C'è, l'hai già aperti Simone? Ladies and Dungeons No Scusate l'attesa ragazzi, abbiamo un piccolo Toppo, piccolissimo Diciamo che Joker ci ha rubato un po' la connessione Sì, sono un po' esplosi tutti Però stiamo arrivando, direi che l'attesa è durata più del dovuto Quindi io direi che incominciamo Metto la sigla Sigla Scusate Ed ora va in onda il secondo tempo del film 2022 I sopravvissuti Perfetto Allora, allora, intanto devo settare Devo settare perché devo far entrare anche il buon Victor Come dicevamo abbiamo avuto qualche piccolo intoppino Appena avviata questa live Giusto? Un attimino Comunque ad ogni modo nel frattempo che io sistemo tutto quanto Inizio a introdurre quelli che sono Arrivato anche Cicciuzzo Arrivato tutti quanti Tutti quanti assieme Perfetto Tutti quanti Tutti quanti Tutti quanti vogliono fare Jazz Alleluia Perfetto Almeno ci siamo tutti quanti Allora ne approfitto e faccio tutto quanto assieme Perfetto Ok Cioè tipo fai ogni presentazione la schermata da uno passa a sei Da uno passa a... No, no, no Penso che ce la facciamo Penso che ce la facciamo lo stesso Manca solo Victor quindi in camera Però per il resto ci siamo tutti Per il resto ci siamo tutti Ok Perfetto Allora intanto che aspettiamo che arriva Vic Io cambio schermata E vado direttamente alla schermata generale Con tutti quanti Oh Così almeno siamo già al completo Che male non fa Cicciuzzo C'è un angry cicciuzzo Cicciuzzo leggermente Ha la stessa tonalità della pelle Della Della La faccia dice tutto La faccia di Cicciuzzo Leggermente alterata Però ce l'ha fatta L'importante è che ce l'ha fatta Cosa sta succedendo? Ancora so fare abbastanza bene il mio lavoro Attenzione Quattro lauree Dieci aziende Giustamente Abbastanza bene Ok Abbastanza In realtà lui Ho trovato una soluzione di fortuna Di merda però La prossima volta che ti dico Non mi rompere il cazzo Io non ho detto nulla Io non ho detto nulla Tu hai detto troppe cose Rispetto a quelle che dovevano essere Cioè due parole Ho chiesto Cicciuzzo ci sei? Un casino Vabbè comunque Ad ogni modo Lasciamo perdere Bene bene Ragazzi Abbiamo avuto un inizio un po' travagliato Ma ce l'abbiamo fatta Vi diamo di nuovo il benvenuto Nel frattempo Che il signor Sir Victor Arrivi Noi lasciamo la schermata così Non c'è più voglia di cambiarla Mettiamo al posto di Sir Victor Io sono in OBS Ninja Attenzione Attenzione Ti stavi già beccando il gabbiano eh Victor Ti stavi Ti sono da prima di entrare su Discord in realtà Ah Ok 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 Però io non ti vedo Vabbè ancora Ancora non ti vedo Non so per quale motivo Tu Kevin lo vedi? No No Ok perfetto Non ti vede nessuno Quindi in realtà non ci sei Quindi finché non ci sei Ti becchi il gabbiano Provo a ricaricare la pagina Victor Esatto Finché non ci sei ti becchi il gabbiano Mi dispiace Comunque Ad ogni modo Tocca 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 Sapere anche io il gabbiano Lo voglio Non ce l'ho Lo so lo so Lo vorrebbero un po' tutti Il gabbiano Oggi non avendo quello vero Che ovvero è il nostro caro Loris Abbiamo quello figurativo Va bene Comunque Ad ogni modo Direi che possiamo incominciare Buon salve a tutti Amici di Gioca Esperienza Televisione Come state Spero bene Sia amici di TikTok Amici di Twitch Amici di quello che vi pare Oggi Abbiamo una tematica Molto interessante Andremo a mischiare due mondi Il mondo del gaming E quello dei fumetti Per cercare di fare una chiacchiera Interessanti Ti è piaciuto il gesto Un po' K-pop Sì Ok Per fare una chiacchiera Esatto Un po' Esatto Comunque TikTok è un nome Troppo poco italiano Giusto Lo chiameremo Toc tac Battere battere Comunque Oggi parlerò appunto Non vuol dire questo Lo so che non vuol dire quello Ma mi ricorda il rumore No? Comunque Ad ogni modo Oggi parleremo di questa tematica qui Che è appunto Fumetti E videogiochi Faremo una chiacchierata Un po' così Dove ovviamente Cercheremo di lanciare Qualche tematiche Mi devo interrompere Perdonami Dovete guardare Lui che parla Mentre il gabbiano Apre la bocca Non è giusto Vabbè Ci sta eh Ci sta Ci mancherebbe altro Mi vede Su Sono uscito Rientrato Rientrato Mi hai mandato il link Sbagliato così No 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 Il link è sempre quello di prima No no perché Prima sono entrato Infatti No non ti vediamo Vittor Io Non ti vedo Incredibile Prova a chiudere Il sito Riaprire Non lo so L'ho fatto Prova a cambiare pc Prova Prova Spegni E riaccendi Non lo so Avendo internet Distrutto Sto da telefono Allora Capisco 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 No se sei da telefono Non lo so Teoricamente Dovrebbe funzionare lo stesso Però chissà A me dice che sto dentro E io Non ti vedo Non ti vedo Ma stai dal telefono Sia con disco Che con Sto con Sono dovuto entrare Col telefono OBS E con l'iPad Subicord Ah Però no Allora se sei su due dispositivi diversi Teoricamente dovrebbe funzionare L'importante è che Se sei da telefono Con OBS Ninja Non devi metterlo Non devi metterlo giù Non devi chiudere la finestra Devi tenerlo No no È aperta È aperta Io non ti vedo Comunque Adesso cerchiamo di capire Guarda tu anche Kevin Se riesci a vederlo Comunque Ad ogni modo Cerchiamo di introdurre Iniziare questa live Introdurre quelli che sono Gli ospiti di oggi Che appunto sono tutti Inerenti a questa tematica qui Anche perché Ho cercato dei Dei grandi esperti Ho cercato dei grandi esperti Di fumetti Che potessero Darci una mano In questa opera Ma Ho fallito Perché Mi è venuto in mente Che poi Kevin Sai com'è È un grande esperto di fumetti Giusto Kevin? Mamma mia Sì? Li conosci tutti Lo leggi tutti Topolino No Non credo che sia Quello l'argomento Comunque Vabbè Al fine un fumetto Potrebbe Comunque Faremo questo incontro Che Con l'aiuto Anche di Frequenza Critica Ovvero Damaso Incominciamo a introdurre Tutti gli ospiti Ciao Damaso Come stai? Sempre Giusto Damaso Scusa È vero Damaso È un po' È strano Non sono abituato Non sono abituato Perdonami Come stai? Tutto a posto? Posto Ok Posto Sembra che la connessione funzioni Quindi va bene Posto Questo a posto È stato un po' Come dire Un po' sofferto Però va bene Va bene Poi Qui con noi In veste di Uomo più sexy Del settore fumetti In Italia Il buon Capcomics Ciao Capcomics Ciao Capcomics Come? No no Dico Ma stasera Non si parlava di cricket Cricket Cavalli 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 Ma io pensavo anche Al curling Il curling Sai che bello No? Quello che tiri Quelle pentole Su il piaccio Megamon Bello Perché c'è un gabbiano Perché il buon Victor Ha voluto essere gabbiano Oggi Sono un gabbiano Oggi è più gabbiano Del solito Esatto Tra l'altro aspetta Che forse Forse Attenzione Forse No Ancora non lo vedo Vedo il link Ma non vedo l'immagine Quindi non lo so se c'è Vabbè io intanto lo metto E poi Qui con noi In veste di gabbiano Il buon Sir Victor Ciao Victor Buonasera Buonasera Ti bello vedere Sì al mare Nonostante il periodo Si sta bene Si sta bene Non fa freddino È tutto a posto No 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 Il sole è stupendo A quest'ora Poi tra l'altro Ok vabbè ci sta Ci sta Ovviamente devi sapere Che da tradizione Quando ci sono problemi tecnici La persona che ha problemi tecnici Si cuzza il gabbiano Quindi mi dispiace Mi dispiace È così È così Quindi per ora Ti devi godere Questo fantastico gabbiano Quando poi la situazione Sarà risolta Allora forse Tornerai col tuo Tuo viso Forse Forse Mi piace stare Stare così Sono Sì sì Vabbè Carling pure Non è italiano Come facciamo a tradurre Carling in italiano Piccolo Kevin Ciurlata Non penso che sia ciurlata No 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 Comunque Andando avanti A rappresentare Quelli che sono i soliti Pazzi del GX Chatting Il buon cicciuzzo Detto quell'altro Francesco Herriu Da oggi Anche ingegnere Salve signor ingegnere Come sta Da merda Ecco Immaginavo È sempre quella La risposta di cicciuzzo Comunque Oggi È meglio Di ieri E domani È meglio Ok Però sì Mi piace Mi piace La risposta di cicciuzzo È sempre fantastica E infine Ero più di buon umore Quando sono uscito Da Super Mario Ah Che è tutto un dire Che è tutto un dire Perché mi ricordo Mi ricordo La tua fantastica Visione di Super Mario Mai quanto Comunque Eternals Mi dispiace Cap Ma purtroppo È successo così Con Eternals Noi abbiamo avuto Questo problema Vale Sì Abbiamo avuto Questo problema E ci siamo un po' Assopiti E infine Come ultimo Sempre Ovviamente Di proposito Il piccolo Kevin Ciao piccolo Kevin Ciao A te non chiederò Come stai Che dobbio Ti faccio Tu lo chiedi a me In questo momento Ma Eh Mi sentirò Molto meglio Quando vedrò La faccia Di Sir Victor Per ora Sono Ma non ti piacere Questo gabbiano Per ora Sì Teniamoci il gabbiano Va bene Non c'è Non c'è Nessun tipo Di problema Comunque Allora Allora Per spezzare Il ghiaccio Eh Spezzare il ghiaccio Che o lo spezzi O Per sciogliere Ecco Prenderne uno Per non prendere 99 Giusto Esatto Sciogliamo il ghiaccio Allora io direi Di Aprire Questa discussione Facendo la cosa Più banale Del mondo Dal momento che L'argomento è Fumetti E videogiochi Io faccio subito Una domanda ai nostri ospiti Ma la domanda Proprio Ma semplice 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 Ok Mi dovete dire Un Un prodotto Videoludico Tratto Da fumetti Che particolarmente Apprezzate Senza nessun'epoca Può essere Da Nuovissimo Come può essere Talmente vecchio Che non se lo ricorda nessuno Io inizierei Dal buon cap Perché io so già Che il buon cap Secondo me Ha una risposta Tanta a questo Ultimamente Spider-Man PlayStation 2 Come mai Questa scelta Beh Piena Mia infanzia Adolescenza Una gran bella Trasposizione Se no Il migliore In assoluto Cioè migliore Quello che evidente Mi ricordo Con tanto affetto È quel Maledettissimo Gioco di Batman Del 96 Ho un dubbio Se sia Su Su Batman e Robin Mi sembra Possibile che sia Su Master System O su Stens Su Stens Su Stens Che è il mio Sempre ricordi Di infanzia Meravigliosi L'ho anche Rigiocato recentemente Ti dico quelli Se no Per affetto Il gioco È di Pk Cazzo Ma Ma qua L'hai toccata Pianissimo Perché Pk È uno dei miei Personaggi preferiti E il gioco Su Playstation 2 Per quanto Ha avuto Limiti O quant'altro È sempre carino Tutto qua Eh beh Sì però Eh ma quando si tocca Pk Io A me è sempre piaciuto Particolarmente Pk Una volta Quando Quando ero giovine Lo prendevo Adesso Purtroppo Tra l'altro Non so che fine Abbiano fatto Cioè io ci li avevo Proprio fisicamente I fumetti di Pk Persi nell'etere Vabbè Se non fosse stato Pk Frittole Ok Harley Queen87 Benvenuto in questa chat Vedo che ti sei già Allineato A quello che è Il normale Mood di questa chat Allora Allora è questo L'effetto Che fa quando vedi Il gabbiano Sotto ci sta il tuo nome Sì esatto Esatto Mango Infatti anche tu L'hai subito Mango Questo effetto L'effetto gabbiano L'abbiamo subito Un po' tutti Vabbè ci sta Ogni tanto Capita Invece Victor Tu cosa mi dici Io non voglio essere Scontato E Brutto Però io ti dico Button Arkham Knight Oh Vabbè Perché Secondo me È semplicemente Il miglior prodotto Videoludico L'olio di trasposizione Mai fatto Cioè Arkham Knight Supera tranquillamente Più della metà Dei fumetti Usciti su Batman In 80 anni Quindi Tanto di cappello Tu hai toccata Leggermente Pianissimo Anche tu Però ragazzi È così Possiamo dirci Quello che vogliamo Ma è così Io non faccio Fatica a dargli ragione Se proprio ci metto Niente Vabbè Ragione Ci sta Ci sta Ci sta Tutta Ma c'è qualcosa Che particolarmente Ti ha colpito Di quel gioco Che particolarmente Amato A parte L'evoluzione In generale Si tende a dire Che Arkham City Sia più bello Perché ha un finale Effettivamente molto potente Ma secondo me Non è proprio nulla In confronto al finale Di Arkham Knight Ma perché c'è Una crescita E uno sviluppo di Batman E della morale di Batman E della psicologia di Batman Che non si è vista Neanche mai al cinema Ma neanche lontanamente Cioè noi in quel gioco Abbiamo Batman Abbiamo Bruce Che diventa Batman E conclude Batman Cosa che non si è mai vista Su schermo al cinema E che si è potuta leggere Soltanto in alcuni fumetti Vabbè Apprezzo Questa tua motivazione Ti ringrazio tantissimo Gabbiano Ehm Grazie Che cosa fai Gabbiano? No dico Vabbè Ci sta Mi sembra che faccia tipo Aspetta La cordacchia fa tipo Ah Gabbiano Gabbiani Quelli di Alla ricerca di Nemo Faccevano mio 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 Vabbè Va bene Va bene Ti ringrazio Ti ringrazio Bellissima risposta Intanto Lorenzo Mango Ovviamente deve dare fastidio E scrive Non ho sentito la domanda Prodotto video ludico del passato Che ci ha fatto venire Per la prima volta No Carissimo Lorenzo Mango Non era propriamente questa La La domanda Simone Fai l'host E rispondi Simone Non volevo che tu Comunque Ti mando su Telegram Il Gabbiano No Va bene così Grazie Grazie Mango È sempre un piacere Comunque Averti Qua in chat Non so che il Gabbiano mi mandi Sono bravissimo Sì sì Mi fido Mi fido Invece Damaso Allora Beh Arkham Knight l'ha già detto Victor Quindi direi che The Amazing Spider-Man 1989 O 1990 Per DOS Per Cioè tu sei andato a cercare Il gioco per DOS Di Spider-Man Come ti è venuto in mente Era bellissimo Uno dei primi che ho giocato C'ho un Non tanto perché Ecco Come diceva Victor È il migliore punto No È più che altro perché Mi ha fatto sentire Spider-Man Quando avevo 5 anni Mi sembra una cosa da non sottovalutare Ok Intanto sto andando a cercare Il gameplay Perché voglio cercare di capire Com'è questo Spider-Man per DOS Era A schermate È meraviglioso Perché tra l'altro Dovevi ogni volta Cambiare schermata Per resettare Perché ovviamente Eravamo nel 90 Quindi è normalissimo La cosa simpatica È che Subito all'inizio del gioco Potevi andare a guardare La schermata finale Perché praticamente C'era il modo di accedere Alla stanza finale Da subito Ah ok Quindi proprio Una delle primissime cose Che vedevi era la stanza finale Però non ci potevi entrare Ah E quindi tu puoi farti Dieci ore di gioco Per poterci accedere Tra l'altro Quando dici che era schermata Intendi che era un po' Alla comics Quello che è stato poi Comic-son Più avanti Con schermata Intendo che Quando uscivi fuori Allo schermo Da uno degli Ah ok Uno dei buchi Te lo faccio vedere subito Giuciuzzo Adesso Vabbè Abbiamo il buco nelle cam Ma per farvi capire Com'è È questo qua Tra l'altro non capisco Perché c'è C'è R2D2 Di Di Perché c'è R2D2 Non l'ho capito Vorrei farvi notare Che Spider-Man Si arrampica Sulle pale Di un elicottero Che poi si alza Quindi Teoricamente Quelle pale Stanno rotando E lui comunque Cioè vabbè Ma non gli anni Non gli dava Gli ricordo Questo gioco aveva delle idee Bellissime Perché Praticamente Ti permetteva di Usare tutte le pareti Ovviamente Essendo Spider-Man E Cambiava completamente La gravità delle situazioni Su questa cosa Ci faceva i puzzle E avevo 5 anni Era bellissima Madonna santissima Tra l'altro vedo Che sta combattendo Prima stava combattendo Contro Robocop Adesso invece Poi c'era R2-D2 Dicevo che avevano Un po' di inventiva Questi ragazzi Lì dove c'era la pala Tu potevi non scendere Potevi salire su E Facendolo in pratica Riuscivi ad arrivare Alla stanza finale Del gioco Bellissima Ah Di già Eh si Però non ci potevi Non ci potevi entrare Potevi guardarla Però La vedevi ma non entrare Ok Vabbè Guardare ma non toccare Un po' da stronzi Un po' da stronzi Questa cosa Leggermente da stronzi Però vabbè Ci sta Ci sta Tra l'altro la vita è proprio lui Lui a destra Quella è la barra della vita Lui intero È la barra della vita Quindi se ti Come funziona Cioè Si stacca la testa Se viene ferito Le cose rimane soltanto lo scheletro Ma che cosa Ma poverino Ma è una cosa tremenda Una cosa tremenda Aspetta voglio vedere Un pezzo più avanti del gioco Per cercare di capire Wow Ma quel topo È grosso quanto Spider-Man Vabbè Vabbè Sì Avevano un sacco di fantasia Però posso dire Che graficamente Non era neanche tanto brutto Cioè nel senso Ci sta C'è anche le animazioni Sono anche molto carine Vabbè Ok Bello Bella scelta Comunque Complimenti Complimenti Non l'avrei mai pensato Mai detto Ci sta Ci sta Invece Scusi signor cicciuzzo Lei cosa mi dice Ma Ripetimi un po' Il tema di questa serata Nel senso Nel senso Sì Questa sera Parliamo di Rapporto fra Videogiochi e fumetti Esatto Esatto Sì Qualsiasi fumetto Certo Qualsiasi fumetto Cioè mi potresti anche citare Che ne so Spiru Potrei dire anche Un manga comunque Un gioco tratto da un manga Perché no Sì certo Tutti roba la fanno in ogni caso Ok grazie Grazie Cicciuzzo Vabbè Allora Io Cosa che abbiamo detto In mille volte in live In realtà Io faccio un discorso Molto più ampio Ci butto Tutta la saga Di Rocksteady E per certi versi Ci butto anche Origins Blackgate No non merda Quello Però ci butto anche Origins Perché In quantità Maggiori o minori Quello che a me è sempre piaciuto Di quella saga lì Era Il fatto Che comunque ci fossero Questo l'ho detto Tantissime volte C'erano una quantità Di nemici spropositati Una quantità Di Reference Sia alle storie Che a personaggi Più o meno noti Della saga Che se ti metti A elencarle Non finisci più Easter eggs Come se non ci fosse Un domani Però a differenza Di Non ne so Un film Di un certo personaggio Oltre agli easter eggs C'erano anche Dei contenuti In questi giochi Eh beh sì Ovviamente Va bene Però va bene A netto Di questa cosa Comunque In generale Credo che sia stato Uno dei prodotti A cui ho giocato Dove Si percepisce Di più Il L'amore Per il personaggio Cosa che Diciamo Nel suo concorrente diretto Perché io lo vedo così Non so voi Che è alla fine Lo spiderman Di insomniac Non riesce a percepire Perché lì Comunque I contenuti Che ti ritrovi Sono Veramente Veramente Ridotti all'osso Per quello che riguarda Diciamo Le Le quotation Le riferimenti Ai fumetti Cioè Sì ci sono Dei personaggi Però comunque Sia lo sviluppo Del Del personaggio Di spiderman In sé Parlo sia Di peter parker Che di morales Nel Sia nel Nel primo Che poi Nel Nello spin off Comunque sono Molto Molto circoscritti Alla storia E poco altro Mentre Nei giochi di batman Ho sempre visto Molta più Voler ampliare quel mondo Voler introdurre Molti più personaggi Voler raccontare Un Un personaggio Come quello di Batman Slash Bruce Wayne Sotto più livelli Questa volta Sei stato Anche più conciso Bravo Cicciuzzo Mi sei piaciuto Va bene Invece Lei Signor Piccolo Kevin Mi stupisca Vediamo Mi stupisca Con due titoli Attenzione Non uno Non uno Spiderman E' lo Spiderman Per Playstation 1 Che mi sfugge Adesso il nome Era quello Dove In pratica Tutta New York Era stata Invasa da un gas E dovevi fare Tutto Diciamo Certo L'esplorazione La mappa Tra i grattacieli Mi ricordo In testa Mi rimanerei Sempre Oltre la parte finale Con Dr. Octopus Carnage Che ti insegue Che ti viene Il batticuore Fortissimo La parte della fogna Con Venom Combattimento contro Venom Sul treno Una delle parti Che più fighe Mi ricordo E poi tutto il misterio Se non sbaglio Che figo Che era quel gioco Ma È vero Eh sì No sì Va bene Ci sto Ci sto Ci sto Se tu cerchi Spiderman Per PS1 E' quello Mentre l'altro Che mi ricordo Ancora meno Però mi cagavo Un sacco Quando ero piccolino Era un Batspan Per Playstation 2 Che avevo giocato Così tante volte Ma mai finito Perché mi cagavo Non mi ricordo Era in Cell Shading Se non mi ricordo male Era molto dark Come gioco Spiderman in Cell Shading No No Ah Batman In Cell Shading E' un Batman Playstation 2 Per Playstation 2 E' un Batman Era 3D Era 3D Era Ryzen Shin 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 Non mi ricordo il nome Ok Questo era Spider-Man Questo è Spider-Man Per PS1 Questo è Spider-Man Ragazzi Bellissimo Bellissimo Cioè Cosa stiamo parlando Io questo C'ho Giocare la prima volta Non su Playstation 1 Perché non avevo Playstation 1 All'epoca Ma su PC Cioè Il porting per PC Il porting per PC Di questo Che era Stupendo Vabbè ovviamente Si era fatto meglio Grazie al cazzo Ma Me lo giocai Su PC All'epoca Ed ero innamoratissimo Di suo gioco Il fumo Il gas velenoso Che sta Sotto E' chiaramente Evoluto E non è una Mera scusa No Sì Certo Certo Non era Assolutamente Per quello La nebbia Gli irticolli La conosciamo tutti E vabbè Però Allora Si ci pensi Un po' È un po' Sfruttare Quello che Silent Hill Aveva Intordotto Comunque Cioè Ovvero Sopperire Alla Mancanza Di potenza Della console Con Una scelta Artistica Che Andasse ad Agevolare Lo sviluppo Diciamo così Però Compare Si vede qua Forse più di Silent Hill Attenzione Che bello Ve l'ho messo gigante Così per farvelo vedere meglio Vi piace? Malago Malago Vi ho fatto la sorpresa Va bene Va bene Va bene È tornato È tornato Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Com'è stata? Ti sei sentito bene In forma di gabbiano? Com'è stato essere gabbiano? In forma di gabbiano Però capisco Che non è comodo Il suo animale guida Adesso Sempre gabbiano Tutta la vita Se lancia L'espetto patronum È un gabbiano Ci sta Lascia il gabbiano A me o a cap Ah giusto Lo volete Se volete Ve lo metto Per me non c'è Assolutamente Nessun tipo di problema Comunque Manco io Non ho detto io la mia Vabbè che intanto Non è importante Effettivamente Ma Di Videogiochi A tema Fumetti Cioè comunque Basati sui fumetti Ce n'è una marea Dire il vero Che Mi sono piaciuti Particolarmente Però se ne devo citare Qualcuno Escludendo quelli che Avete già citato voi Tipo appunto Lo Spider-Man Per Per PS1 A me me ne vengono In mente i due Che mi hanno fatto Davvero impazzire Che erano Vabbè Marvel vs Capcom Che non sto neanche qua A citarlo Perché secondo me L'ho detto Sì esatto Nel senso che Io mi ero letteralmente Innamorato Di quel concetto Proprio di crossover No Di quando C'è proprio due universi Che si incontrano All'interno dello stesso gioco Quella è una cosa Che a me È sempre piaciuta E poi Maximum Carnage Per il Mega Drive Maximum Carnage Per Mega Drive Secondo me era Totale Era davvero totale Era un Vabbè Era il classico Platform 2D Che c'erano All'epoca Su Mega Drive Però Con l'introduzione Appunto Di Venom E Carnage All'interno del gioco Che sono dei personaggi Assurdi E che lì Erano trattati Anche abbastanza bene Tutto sommato Che di solito Sono dei personaggi Che Dal punto di vista Di entertainment Gli hanno sempre Un po' Non trattati Come dovevano essere Trattati Tipo per esempio Come è successo Nei film Tendenzialmente Dove non c'è Mai una volta In cui O Carnage Gio Venom Vengono Messi giù Come dovrebbero essere Però va bene Quindi no Marvel Snap Vabbè Ma Marvel Snap Giuseppe È un altro discorso Lì è Come se fosse Non so Un vizio Ecco È diverso Anzi ragazzi Ma voi che rapporto Avete con Marvel Snap Se ci giocate A Marvel Snap Che rapporto Ci avete Con questo gioco Ragazzi Non so Cap Io Ci gioco Dal day one Ammetto che Nell'ultima stagione E mezzo Circa Quindi da Metà febbraio in poi Sì Ho lentamente rallentato Però quotidianamente Una partita O due Me le faccio sempre Propiziatoria Diciamo sì Però inizialmente L'ho veramente Fuso Cioè il telefonino E il gioco Pass Contro Ho anche Shoppato Beh quello sì Quello anch'io Quello anch'io Perché sì Perché sì Ho shoppato Ci sta Ci sta Pensa che io Mi ero ripromesso Come ho giocato Per la prima volta Che appunto Lo dico sempre Che il buon Loris Mi ha introdotto A questo bruttissimo vizio Io la prima volta C'ho giocato Che tra l'altro Nell'alive Ho detto No ragazzi Io i miei soldi No no Io free to play E basta Ero già lì Con i soldi in mano Dopo una settimana Ma ci sta Ci sta Alla fine Ti piglia tanto Tu Vic Invece Ci hai giocato? A me piace La DC Va bene Ma comunque Ma comunque Non ci hai provato Lo stesso No no Ho un problema Con i giochi Da mobile Io Mi erano fastidio Giocare sul telefono Ma sai che Non è andato Non è andato Io un po' ti capisco Un po' ti capisco Perché Anch'io all'inizio Non ero Avvezzo Cioè Non volevo Non volevo Anche ai tempi Io Nerdavo tantissimo Su Magic Arena No E quando c'ero sul telefono Ho detto Bello è Ho giocato mezza volta E non l'ho mai più avviato Quindi tu non l'hai neanche mai provato No Ma non l'ho neanche mai visto Un gameplay In realtà Proprio zero E a me piacciono molto I giochi di carte Però Essendo su mobile Niente Però Posso dirti che C'è la versione per pc Ah questa cosa non la sapevo Ed è gratis anche lì Molto interessante Vedrò Vedrò Proverò ad approcciare Testalo Testalo Io non ero né avvezzo ai giochi di carte Comunque in generale su mobile Giocavo solo a Pokemon Go Ho detto Ma sì dai proviamo E Basta Non riesco a staccarmici Invece tu Anzi ti chiamerò Frequenza critica Cosa mi dici? Così spammiamo anche Frequenza critica Dimmi Giusto No Sono con Victor Anche qua Nel senso che Niente da fare Per quanto mi riguarda Però ti posso dire una cosa Che visto che c'è troppa Marvel In questi ultimi Dieci minuti di conversazione E visto che Voi vi siete girati Due e due A questo punto Io rilancio Dicendovi che Non ci possiamo dimenticare I Dragon Ball Z Un applauso a lei signore Un applauso a lei Un applauso a lei Io non sono concordo Con questa affermazione Allora posso So di minimicarmi Molte persone Però a me I Budoket and Kaichi Non Non li ho giocati Cioè nel senso Non li ho giocati assiduamente Ma che cazzo ci vuoi qua dentro Non li ho giocati assiduamente Per Perché non avevo una PS2 Ok Però non mi hanno mai Detto Niente Quelle volte che andavo A mio cugino Ci giocavamo Guarda Forse ho provato Più emozioni Giocando Final Bound Ma Ma anche perché Era piccolo Quando c'era Final Bound Devo dire che mi ha Dato più soddisfazioni Quel Fighter Z Fighter Z Che però Oh A giocare Ho un A un picchiato La parte online Ma quello è il più serio Il punto di Budoket and Kaichi 2 Era Cioè Spammi Era cazzato per definizione Quella roba Ma non riesco a Cioè nel senso Io sono quello che Ti fai male Per pastelli e basta Cioè Nient'altro Allora io sono quello che Se Se mi diceva mio cugino Ah dai giochiamo a GTA Lui era quello che diceva Ma prendo il carro armato E faccio le qualsiasi cose Con i cheat E Io ero invece quello che diceva No no Dobbiamo fare le missioni Bravo Bravissimo Bravissimo Io ero contro Io ero contro Ero contro Ma pensa che c'era Quando io ero piccolo Facevo anche una sorta di roleplay In GTA E a volte E lo facevo anche con Con Mafia 1 A volte guidavo Andavo in giro E rispettavo I semafori Mi fermavo Lo faccio anche per noia Sì Quando ero particolarmente annoiato Dicevo Vabbè vado a farmi un giro Con la Vespa E io mi fermavo Facevo i giretti Sì non so perché era Ci hanno provato tutti almeno una volta Esatto Giuseppe Esatto esatto Però sai che su quello che dici tu cicciuzzo di Budokai Ti sono particolarmente vicino Perché sì Finché si tratta di giocarci a livello cazzeggio Ogni tanto sì Però come gioco di Dragon Ball picchia duro Effettivamente FighterZ è qualcosa di assurdo Però vabbè Sì sono due generi un po' diversi Secondo me Budokai è anche un po' E anche due ere completamente diverse Due ere completamente diverse E soprattutto c'è la questione di nostalgia di mezzo Secondo me anche Che è un po' L'ha tirato un po' su L'ha tirato un po' su rispetto a quanto dovrebbe Secondo me è un parere personale Eh ahimè Però c'è ragione c'è ragione Buona frequenza critica Io ho avuto un attimo una lampadina accesa Ma qualcuno di voi ha mai giocato a Marvel Nemesis? Andiamo subito a cercarlo Era praticamente questo gioco Io mi pare che c'erano su PS2 E aveva una roba completamente fuori di destra Secondo me per i tempi soprattutto Oh bellissimo Bellissimo Tu avevi la trama principale no? Ho capito qual è Eh tu c'avevi la trama principale Però potete anche fare I versus tra i personaggi nelle arene Era una roba fuori di testa Perché c'era anche l'interazione ambientale Potevi lanciare le macchine Spaccavi i pali in faccia agli altri Quindi oltre alla trama Che era anche dark Distotica E capifattori C'era questa modalità incredibile Per fare l'uno contro uno Ma questa è la cosa È la cosa che sta picchiando tizi Spadati Sì c'era un cast Un po' abbastanza era Devil C'era la torcia umana C'era un po' di gente Modalità furia Guardatelo Guardatelo Beh No questo qua Cioè penso Mi ricordo la copertina Perché ho visto la copertina del gioco Effettivamente me la ricordavo Ma non l'ho mai giocato Non l'ho mai giocato Questa chi è? Secondo me questa idea Di mettere sia la storia Sia questa modalità versus Cosa che non si è mai più rivista Ma che peccato Perché alla fine sembra un gioco abbastanza cacerone Guarda qua C'è anche le singole arene Gente che si ammazza Fico Fico Ci hai fatto scoprire una cosa nuova È doppiato in italiano Combattono tipo come i modelli di Smackdown tra l'altro È vero È verissimo È verissimo È verissimo Smackdown versus Questa chi è? È Tempesta Vittoria Vabbè Ok ci stai Vittoria 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 Tempesta Questa era per risponderti che è in italiano Sì sì è in italiano Non so se è doppiato in italiano Perché non lo sento Perché in questo momento ho mutato il video Ma sì Secondo me sì Secondo me è così A naso È doppiato in italiano È doppiato in italiano Comunque 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 Allora facciamo così Piccolo Kevin Guardate Di che? Guardate addirittura Sai che se io Non so perché Ci devo scommettere Se io ti evoco Se io ti evoco È per andare deep Ok? Siamo deep È per fare La domanda seria Momento serietà Da riscattare in chat Allora Adesso il nostro Piccolo Kevin Addetto Alle domande serie Non è vero Farà una domanda Ai nostri ospiti Ovviamente ricordati Chi deve rispondere per primo Perché giustamente Siamo in 47 oggi Quindi Come ogni volta ti ripeto Che non sono io Quello che si dimentica Tra le due Però Fa ridere perché è vero Prego Allora Dica 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 Questa domanda È abbastanza Semplice Perché poi vorrei Arrivare a un'ulteriore Domanda Oh Partiamo da Damaso Ok Che cos'è In maniera Totalmente soggettiva Per te Il fumetto Ostia Proprio Domanda leggerissima Ok Cos'è per te Questo Diciamo I fumetti appunto Cosa sono Cosa rappresentano Anche per te Nella tua vita Ah Ok Ok Già più La domanda proprio Estremamente leggera Non è che deve partire Damaso 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 Prima Damaso Vediamo Vediamo Vick è già in camma È già pronto E allora Io Leggo fumetti Da quando avevo Tre anni Più o meno Oh E leggevo Topolino Più o meno Leggevo Topolino Ai Puffi I Puffi I Puffi Ah Qualche Qualche albo Dei Puffi Qualche Qualche piccolo Albo dei Puffi Non mi ci sono mai allontanato Anche se Penso di poterlo dire Tranquillamente All'interno di questa sera Probabilmente sono La persona che Meno è esperta Ai fumetti Perché Non sono Un avido lettore Di 200.000 fumetti diversi Colleziono tuttora Per esempio Topolini Io li colleziono tuttora Ne ho circa 2000 Però non è un lettore Di fumetti Non ho letto Di tutto Ah ok Solo 2000 Topolino Però Ok Prego Prego Il fatto è questo Che Mi sono avvicinato Molto tardi Al fumetto americano Molto molto tardi Non è una delle robe che Non so A 16 17 anni Mi sono avvicinato a quel mondo Ho iniziato a leggere Tantissimo Ecco no È roba Proprio recente Degli ultimi Saranno 6-7 anni Quindi Io ho giocato Batman Arkham Asylum Senza aver mai letto Niente di Batman Per darvi un'idea Di cosa Di cosa stiamo parlando Il che mi ha permesso Credo di avere un insight Anche diverso Nel senso che lo guardavo Dall'altro lato Cioè Come persona che non aveva idea Conosceva giusto Cultura pop So chi è Batman So chi è Joker Blah 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 Però insomma Non c'era Tutto il contesto dietro Ci può stare E lo stesso valeva Per tantissimo altro Il fatto è che E qua Magari vado ancora più deep Di quanto era La domanda di Kevin No Però Secondo me Il concetto Del fumetto in sé Non è una cosa Che è limitata Soltanto a quella Che noi chiamiamo fumetti E boh Cioè Cosa voglio dire Prendo quel gioco Prima di Spider-Man Quello che citavo Per Dossa Alla fine C'erano Delle schermate E passavi da una schermata All'altra Giusto Sì Quello è di fatto Il fumetto Cioè È una storia Narrata attraverso Diversi Insight In scene Differenti Sono scene diverse Una dopo l'altra Quello vedo io Come fumetto Quindi Quello che voglio dire È che In un certo senso Gioco a fumetti Da quando ero piccolissimo Solo che non li vediamo In quel senso No? Però Il contatto Fra fumetto e videogioco Per me è altissimo Perché Quando fai una roba del genere Ok Magari se Un de la sua fase Non è un fumetto Ok? Quando stai giocando Delle cose Aschermate Delle cose in cui passi Da una scena Alla successiva Quello è il fumetto Secondo me Quindi tu favorisci La linearità Cioè Preferisci qualcosa Di lineare Che abbia anche Una sorta di Dove La trama è importante Cioè tu vuoi Quel tipo di esperienza Videoludica Cioè scusa Quel tipo di esperienza No forza Dico soltanto Che quando fai quello Effettivamente Tu stai giocando A un fumetto Secondo me Ok Non è Cioè Credo che Cambia un po' La definizione di fumetto In questo senso Cazzo È andato È andato deep Sul serio Comunque Sono rimasto Anche abbastanza Stupito Nel tema Ma io È una domanda Bastissima Questa onestamente Eh sì Io Io sono cresciuto Un po' Al pari Perché io Ammetto che sono stato Un ragazzo fortunato Perché Pur non avendo Dalla parte Di miei genitori Parenti Diciamo Minima conoscenza Supporto di tutto questo Ho avuto Tuttora uno zio Che mi ha trasmesso Tutto quello che Sono ora Perché io ero bambino E a 5-6 anni Leggevo Non so Busiek Poi Miller A 10 anni Voglioci a leggere Insomma Sono cresciuto con Quake Alla tastiera Con lui seduto Mentre giocavo Quake Con Doom Insomma Roba vintage Come si può dire Cose tipiche Da giocare a 10 anni Ma sempre Ma sempre Ma sempre Accompagnato Il fumetto E Semplicemente Non so darti Una risposta Il perché sia così Semplicemente È stato da sempre Da quando ho memoria Parte della mia vita Come fosse un'estensione Della mente Del corpo Del cuore Perché ho Sempre empatizzato Con molti fumetti Ad esempio Sono un omni lettore Divoratore Di tutto Spazio da qualsivoglia Genere Tralasciando Forse Lato manga Un po' I shoujo I queer E quant'altro La lascio un po' Onestamente a desiderare Non sono che E' interessato Però Su Quasi tutto il resto Marvel DC Mage Ai tempi C'era La vertigo Il compagnia Bella Ora E' stata Fusa E quant'altro Le leggevo Quindi non ho neanche Quel tipo di preferenza Ho sempre letto Un po' Tutto Ora Scherzando Sempre il nickname Cap Così perché Sono legato anche Per altri motivi Dal personaggio di Capitano America Ma Io sono Non riesco neanche a scegliere Tra Marvel e DC Perché Ogni momento della mia vita Ho un ricordo Di un personaggio Con un preciso istante Della mia vita Per dire Ricordi d'adolescenza Sono accompagnata Tutte le run Di Jones E compagnia Bella Perché ero pieno Il qua Victor Si ho detto Con D'Arma Perché ero Adolescente Jones Mi fece godere Con tante cose Che Magari poi nel tempo Ho anche rivalutato Però comunque Al tempo Ero Ero fedele anche a quello Poi ripeto Io poi ho vissuto E credo anche Victor stesso L'abbia vissuto in Italia Un momento abbastanza Traumatizzante Con la DC Perché In tanti anni DC in Italia Ha subito Un grande Un grandissimo danno Da parte dei precedenti editori Perché Lion Comics È stata un po' La pietra tombale Di tante nuove generazioni Di lettori DC Comics Che non hanno avuto La possibilità Di poter leggere Con regolarità Il mondo DC Era imbarazzante La gestione DC A livello spillato Io Racconto sempre Questo aneddoto Per farvi fare due risate 2000 Perché non lo so Non lo so Cioè cosa è successo Allora era Victor Qua aiutami Con le date Successe questo Molto in breve La Lion Non riuscivano Le cose Non riuscivano A stare dietro Alle uscite Non riuscivano A gestire Niente Ristampe Niente Uscite 15 Nali Che però Saltavano Quindi ti perdevi Le testate Una testata Usciva dentro Batman Non usciva Dentro La Lanterna Verde E non si capiva Letteralmente Il cazzo Io mi ricordo Sempre Guarda Quei ricordi Unici Comic Con 2015 In piena era New 52 Mi sembra Noi New 52 2015 Vado Vado Lì Mi presento Responsabile Al comico Chiedendo informazioni Sui cofanetti Perché Ai tempi Una delle poche cose Decenti Decenti Da virgolette Che loro producevano Rispetto alla panini In quel momento Ma non soltanto Siano questi Bellissimi Tra virgolette Cofanetti Con cui raccoglievi Ispi Latini Per anno Hanno Uno Due In base Così Ecco Io non dimenticherò mai Vado lì Parlo con i responsabili Eccoli Mamma mia Madonna Così Parlo con i responsabili Proprio scritto Responsabile Lion E mi fa Ma perché facciamo i cofanetti Ottimo Capolavoro Direi Io lo guardo E faccio Ma Se non lo sai tu Io Non so che dirti Io ho detto Guarda Hai soltanto accanto Una montagna di cofanetti Sparsi di roba passata Lui Ah ma sono questi i cofanetti Sì Sono questi i cofanetti Molto bene Molto bene Questo è stato il danno Quindi insomma Sono fortunati Le generazioni attuali Perché Pagnini Comunque in questo momento Sta facendo un buon lavoro Nel ristampare Più altro dare Molto lato di sì Perché ci vuole E soprattutto Anche in proiezione futura Finalmente Speriamo Ingan In questo Possa finalmente Dare manforte A Un rinascimento Della di sì Di fronte Serial Cinema E quant'altro E Un ragazzo Una ragazza O qualcuno Interessore di sì Possa andare finalmente In una libreria In una fumetteria E trovarsi Quel che serve Anziché Le frattaglie Roba Senza alcun senso logico E quant'altro Perché quello è stato Mancato completamente Ma Blue Beetle È già di Gun Sotto Gun No Era vecchia direzione Ancora Blue Beetle Blue Beetle Hanno detto Se va bene Lo teniamo Se va male No Quindi anche là Stanno studiando Tu fai conto Nice Della vecchia produzione Dovrebbero rimanere Flash Blue Beetle E Aquaman 2 Che non si sa Che fine ha fatto Perché l'hanno Detto Tagliamo Rimettiamo Amber Heard La soglia Ah cioè è vero Che c'è La cosa Esce a dicembre Potenzialmente Può fare il botto Perché a dicembre Ho la finestra libera Aquaman 2 Aquaman 2 Agli screen test È stato Dichierato il peggior film Mai fatto Dalla guerra Madò Direi che Strada spianata Per Gun C'è proprio Prego Prego no E sono successi Dora in avanti Vabbè Poverina Tornando al topic Era il peggone Non è il peggone No non ha risposto ancora Il buon Vic Eh no appunto Tornando al topic Victor lei cosa mi dice Di Questo lato del fumetto O di Aquaman No no Il fumetto Lasciamo stare Aquaman Allora Ho una domanda Difficilissima Cioè proprio Quasi Boh Se ne potete parlare Per una live intera Per me il fumetto È È un po' Aria Cioè nel senso È quella cosa Che Sicuramente riesce Dipende come dice Approcci ovviamente Come penso Qualunque media Ti può cambiare la vita Se lo approcci In un determinato modo E ti può salvare la vita Se lo approcci In determinati modi E E che effettivamente Riesce Non soltanto A Darti una visione diversa Sul Sul mondo in generale Ma anche magari A farti crescere In un contesto In cui magari tu Non riesci a crescere Io conosco molta gente Che magari è cresciuta In contesti familiari Difficili È restato il fumetto A crescerli Letteralmente Che vuoi perché I genitori non erano presenti Per un motivo O per un altro Queste storie Ti accompagnano Letteralmente Nella vita E Ti danno qualcosa Quando hai dieci anni Te ne danno un'altra Quando ce n'è 15 Te ne danno un'altra Quando ce n'è 20 È letteralmente Sono storie No? E come In Batman Metal Si dice La storia è l'arma Più potente del multiverso E fondamentalmente È così Perché sono queste storie Che poi ti danno Quello che ti serve Per andare avanti C'è ma diceva Siamo fatti All'80% Dei film Che guardiamo No? Bellissimo Bella citazione Bravo Mi hai tirato fuori C'è ma così a caso Ok? È un po' la stessa cosa Non siamo fatti Quello che leggiamo Vediamo Giochiamo E quindi Sto mondo Ti può veramente Cambiare la vita In tanti modi Mamma mia È vero però Alla fine Peace Walker C'ha i fumetti all'interno Tra l'altro Eh sì La butto lì Tra l'altro La serie di Peace Walker Che è rilegata In quella fantastica Piattaforma Che è Team Vision Grazie No No Peacemaker Ah Peacemaker Scusa Peacemaker Il gioco Avete messo in mezzo Giochino Quindi Ho mischiato le due cose Scusate A i video Cioè A le transizioni Che sono fatte Ah sì sì È vero è vero È vero è vero La storia è raccontata Per frame immagini Con gli artwork Di Shinkawa E i Balloon A fumetto Ma tra l'altro Mi sembra di ricordare Che su PSP Erano usciti Bravo Anche due Acid Due contenuti Due UMD Che erano solo fumetto Della storia Sì 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 Che non mi ricordo Non li ho visti Quindi non so Se erano dei recap Allora Se ricordo bene Era Metal Gear Solid Acid Qualcosa Era qualcosa per No Acid è un gioco È un gioco strategico Con le carte C'entra niente Non era quello con i fumetti No 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 Ah no qual era Due UMD A parte Che erano usciti Solo in America In Giappone Mi pare Che avevano Vabbè comunque Ed erano Sembra inclusi Nella Nella Metal Gear Solid Saga Collection Come cacchio si chiama Comunque non ho mai avuto Modo di leggerlo Ma cioè di guardarli Ma vabbè Con quello è un altro discorso Ma Cicciuzzo Dazzo che Già stai parlando te Un tuo parere su ciò Cos'è per te il fumetto Mi Allora Per me il fumetto È Stato Inizialmente No scusa Stavo leggendo un commento in chat Vai vai No per me il fumetto È Io col fumetto È iniziato a 4-5 anni Che leggevo le strisce Dei peanuts Per me Il fumetto Nel primo approccio Era quella roba lì Era comicità Erano strisce Perché poi comunque Dai peanuts Sono passato a Leggere Degli albi Di Lupo Alberto Che Recuperavo qui E là Le storie di Asterix Qualche volta I topolini vecchi Dei miei Topolino Era o meno un fan Però se leggevo Topolino Era più Per i paperi Che per i topi Quindi Bravo Mi piaceva più Soprattutto paperino Mi piaceva O anche paperoga Mi piaceva più Quella vena comica Che Che si ritrovava All'interno Delle loro storie Per molti anni È stato così Sono arrivato Intorno ai Aspetta Che ti dico Era Era il quarantennale Del Era il Anni 60 Era il 1946 Quando Il fumetto Il fumetto È del 1962 Era il quarantennale Quindi Era il 2002 Avevo 12 anni E lessi Il mio primo Diabolic E lì ne ho Comprati Una Quantità Esagerata Prima di dire Forse è il caso Che mi fermi Però sono andato avanti Vabbè Astorina Faceva di tutto Per Per venderteli Perché Aveva la serie Inedita Che usciva ogni mese Poi Il primo del mese Poi il 10 del mese C'era la prima ristampa Il 20 c'era la seconda ristampa Quindi Avevi tre fumetti Al mese Quindi 36 all'anno Ne tiravi su Veramente A Badilate Poi sono arrivato A un certo punto In cui La seconda ristampa Aveva raggiunto La prima ristampa E ho detto Ma io questo ce l'ho già È il caso Che mi fermi Hai praticamente fatto il giro Hai doppiato L'avversario Hai davvero doppiato L'avversario E quindi È lì che hai capito Che avevi un problema Con gli acquisti Giusto? Sì Va bene Va bene Era molto chiaro Molto chiaro E quindi diciamo Da diabolico Ho capito Che il fumetto Poteva essere anche Altro Che non fosse Solo comicità Perché comunque In un modo loro Che il team Di Diabolico Ha portato avanti Negli anni Aveva comunque Mi piaceva molto Per diciamo L'aspetto Di rivalità Quindi questo scontro Come se fosse Una partita a scacchi Il fatto che Diabolico Cercasse di anticipare Le mosse di Ginko E viceversa E quindi C'era tutto questo aspetto Di Mosse contro mosse Che lo rendevano Veramente affascinante Era una lettura Estremamente leggera Perché un numero Lo finivi veramente In un viaggio In treno Cioè in una viaggio In autobus Quindi io andavo All'edicala Lo compravo Tornavo a casa Da scuola E una volta Che arrivavo a casa L'avevo già finito Di leggere Però ti reddavo Una storia Che aveva un inizio Uno sviluppo E una conclusione Nel giro Veramente Di quel Mi sembra Comunque erano storie Da Ottanta Novanta pagine A volume Ma molte tavole Lavoravano molto Per immagini Molto per immagini E poco per Descrizione Da lì in poi Ho avuto poi Il mio periodo manga Perché Verso i 17 anni Ho comprato manga 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 Ma ce li hai ancora? A voia Sì? A voia Non me li ricordavo A casa tua Ho ancora Diciamo Sono mega Affezionato A Fullmetal Alchemist Che ho acquistato In prima edizione Che è probabilmente Fra i manga Uno di quelli Che più mi ha appassionato Forse per l'aspetto Fantasy Esoterico Forse perché Comunque Secondo me I personaggi Sono scritti Veramente bene Però comunque È uno di quei manga Che mi ha lasciato tanto Ammetto che I manga Quelli storici Li ho recuperati Molto dopo Nel senso che comunque Mi sono letto Grazie alle ultime ristampe Roba come City Hunter Roba come Rocky Joe Che ho Conoscevo Ma non mi ero mai avvicinato Nella loro forma Di fumetto E poi Come in realtà Come in realtà Frequenza critica Ho avuto un approccio Molto tardivo Con i fumetti Che è iniziato Con i videogiochi Di Batman Che poi mi hanno introdotto A quello che è Torella Tutto l'universo DC E da lì Diciamo Ho cercato di spaziare Tantissimo Fra i veri personaggi Soprattutto Ringrazio La Panini Che In sua carità Se le fa pagare Perché porca puttana I loro brussoratti Non è che costino due lire Però comunque Secondo me Con la celebre Clebo Sta facendo un buon lavoro Di riproposizione Di quelle che sono Tutte le storie Più importanti Dei Dei loro Dei artisti Poi arriverà Capcomis Che mi darò No hai detto una cazzata Guarda Hai detto una cavorata Notare come si è Comunque corretto In modo educato Ho detto Cavolata Perché giusto Cavolata Esatto O farbacco Per di indirizia Per di indirizia O farbacco E invece te Stimo Io Ma io ho sempre avuto Un rapporto Un po' Così Con i fumetti Nel senso Quando ero piccolo Si ce li avevo Ne avevo parecchi Ma poi appunto Col tempo Li ho Dispersi Ceduti Regalati Dati via Vabbè Mi fai male Eh lo so Lo so Perché non sono mai stato Comunque un lettore appassionato In generale Quindi diciamo che Avevo approfittato Dei fumetti Quando ero piccolo Per cercare di Interessarmi No Alla lettura Non ho mai avuto successo In questo Però Diciamo che anche lì Spaziavo parecchio Cioè Avevo qualcosa Che erano Erano dei manga Avevo i Nugiasha Avevo I vecchissimi Ranma Infatti adesso Mi voglio ammazzare Per questo Vabbè Lasciamo perdere Avevo anche Quelli di Rossana Me la ricordate Rossana Che la facevano su Italia 1 La scatola dei giochi Avevo tipo Qualche numero anche di quello Non so perché Boh Ogni tanto Andavo parecchio A intuito Nel senso Vedevo una cosa Mi piaceva Che magari l'avevo visto Che ne so In televisione L'anime Ho detto Ma si dai Mi prendo anche Il fumetto E facevo così anche Con altre robe A dire il vero Avevo appunto Un sacco di topolino Avevo i pick up Come dicevo prima Ma non sono poi Mai riuscito Seriamente Ad affezionarmi A quel tipo Di intrattenimento Lì Perché poi Finivo sempre Nel Appassionarmi di più A quello che poteva essere L'anime E o il cartone animato E o il cinema E o il videogioco Legato a quello E quindi poi L'opera originale Diciamo che Un po' L'accantonavo Così anche come Mi era successo Con Qualche fumetto Marvel Che qualcosa Prendevo io Qualcosa mi davano I miei cugini Perché erano Invece grandi Appassionati Di roba Marvel Che poi lì È andata Per colpa Forse sempre Dei videogiochi È andata sempre più Ad essere accantonata Quindi magari Invece di prendermi Il fumetto Dicevo Cazzo però È uscito Il videogioco Di Spider-Man Quasi quasi E poi finivo In quel turbinio lì Che non Non mi portava Da nessuna parte Questo Fa capire La mia passione Per Paperino Operazione Papero Perché io da piccolo Leggevo I fumetti Di Paperino E Paperino Operazione Papero Per me era Un gran giocone Però sì È sempre stato Un rapporto così Altalenante Però c'è stato In qualche modo C'è stato Ancora Ogni tanto Mi interesso Ma non tanto Magari all'albo Singolo A leggermi il fumetto Mi piace più Il contesto Tipo Oppure Il background Andarmi a prendere Gli artbook Quelle cose lì Più che andarmi a prendere Il fumetto singolo Così come io adoro La mia enciclopedia Marvel Che mi leccherei Ogni secondo Ma non Poi magari il fumetto in sé Non me lo vado a prendere Nonostante io sia Abbastanza infissa Soprattutto con Tutti i vari avvenimenti Successi Nell'universo Marvel Tipo Quello mio preferito Era il periodo della Civil War Secondo me Quello era Un periodo Marvel Che io ho particolarmente Apprezzato Però poi Boh E' finita così E' finita così Purtroppo Ma io volevo Agganciarmi anche A un'altra cosa Alla questione Proprio di questo Del Del cambio di rotta Del medium Che in questo caso Molti l'hanno L'hanno sentito Con quelli che sono stati Magari I vari film E le varie serie Dedicati ai personaggi Marvel DC O qualsiasi altra cosa Che potevano essere Anche gli anime E Via dicendo Domanda Che rivolgo Soprattutto Ai nostri ospiti Quanto Questa cosa Ha inciso Nel 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 consumatore Attuale Cioè nel senso Come Come è cambiato Il pensiero Del consumatore Attuale Nell'approcciarsi Al fumetto Per via appunto Dei vari film Anime Eccetera eccetera Tipo Cap Tu come la vedi Questa cosa qua Positiva Per fortuna Perché Se nella parte manga Onestamente Un discorso a parte Fronte Fumetto americano Dopo C'è stato un periodo Importante Anni addietro In Italia Poi è stato un momento Di grossa flessione Nella parte Centrale anni 2000 E grazie all'NCU Purtroppo Lato DC Molto meno Perché si è creata Questa stupidissima Associazione Di I prodotti DC Al cinema Fanno cagare Equivale Che tutti i personaggi Deci Fanno cagare Anche a livello Fumettistico Manco per niente Perché Non ci sono Né gare Né altro Ma La profondità Dei personaggi DC Comics È importante Molte storie DC Comics Sono iconiche E hanno aiutato Marvel a crescere Viceversa Sono aiutato Viceversa Con molti prodotti Si sono anche La biblioteca Scopiazzata A volte Nel corso degli anni Per migliorarsi E gareggiare Però si Fortunatamente I prodotti Anzioni Ha aiutato Molti ragazzi Ragazzi A efficienza Al fumetto americano Che di per sé Ha un grande problema Non ha Una barriera D'ingresso facile Come ad esempio Il manga Perché il manga Come dico sempre Ad esempio Banale Vieni in fumetteria Vai Domunque sia Dici Voglio iniziare One Piece Ebbene Ecco il numero 1 E finisci E attualmente Al numero 104 105 Quindi continua così Se tu arrivi Ok Voglio iniziare A leggere Voi iniziare A leggere Batman Bene Batman Hai Ci sono degli Starting point Lato cartonato Famosi Ripetiti Di altro Ma ad esempio Oggi ho fatto Un reel Su Velocemente Qua Piato Lingua Vero Frequenza Critica Victor Del rilancio Di Zasky Di Batman Del 68 Eccetera Eccetera Non avessi mai detto La frase Quindicinale Che si alterna Con un altro team creativo E quindi Teoricamente Come se tu Comprassi Un mensile Perché Batman Come Spider Mentre Batman Di più Si alternano Dei veri e propri Team creativi Diversi Sono due storie Completamente diverse Non l'avessi mai detto In privato Si è girato il caos Oddio Come quindicinale Che vuol dire Tra 15 giochi Perché c'è proprio Il caos Che si vuole approcciare A una cosa del genere Quindi meno male Per fortuna Che ad esempio Lato Marvel In questo momento Ma anche DC Per fortuna Per esempio di più Si sono create Linee editoriali A volte a mio avviso Strabusate Nel nome Quindi il cosiddetto Marvel Mastev Che spesso E malvolentieri Di Mastev Ce ne è proprio poco Perché molti Mastev Che sono Tra venduti A mio avviso Non sono dei grandi Mastev Ci sono grandi altre storie Che dovrebbero essere Ristampate Tra l'altro Linea editoriale Che io Ho scoperto Solo grazie Ai video Di Capcomics Quindi E quindi E' comodo E' comodo Con anche quello Però Ti ripeto I film Hanno sicuramente Aiutato La cosa che mi fa Preoccupare È che Nel futuro prossimo Ci sono tanti Nuovi personaggi Che arriveranno Dentro da MCU Ti parlo da MCU Anche DC E starà Le case Edite editoriali Stampare anche Roba del passato Perché molti personaggi Avranno nuova vita Linfa Però Avranno sì Bisogno di nuove storie Contemporane Come spesso accade Moon Knight E quant'altro Che stanno pian piano Andando di pari passo Con il ritorno Di questi personaggi Però molti altri Sono davvero datati Io penso anche Lato di Second Gun Molti personaggi Avranno un rinascimento Anche editoriale Perché è da Ioni che non si vedono più A tuo livello Editoriale Quindi vediamo Come entra Purtroppo Ultima cosa Non so cosa ne pensa Frequenta Che dire Victor Mi dispiace Che spesso I malvolentini Ormai Diciamo I responsabili Editoriali Sono Dannatamente Influenzati Da ciò che viene detto E fatto Nella controparte Seriale O cinematografica Invece Victor Dovrebbe esserci Un'indipendenza Però Dovrebbe essere Un po' più Leggeri di testa E lavorare E lavorare Con una propria Coscienza Anziché Star sempre A vedere Oddio Devo fare Per forza Questa nuova storia Perché almeno Posso vendere La copia in più Anziché Lavorare Con qualità Maggiore Se posso Permettermi Su quello È proprio Il discorso Delle vendite Ovvero Il fumetto americano In generale Ha sicuramente Avuto Un boost Grazie Ai film Soprattutto Quelli Marvel Però In generale Il fumetto americano Ha sofferto I suoi periodi Sta ancora Soffrendo Un suo periodo Di crisi In termini Di vendite Quindi è chiaro Che nel momento In cui Devi Portare Quelle vendite A essere Di un certo tipo Sfrutti Quello che è Il trend Delle serie Televisive E del cinema Per portare Avanti quella cosa Perché fra i due In questo momento Quello forte Qual è? È il cinema Dove Comunque Endgame È il secondo film Più Più Sbigliettato Della storia Del cinema Spider-Man No Way Home Gli sta lì dietro E chiaramente Quello In questo momento È il fratello dominante Proprio il cinema Non è Non è il fumetto E quindi è una scelta Editoriale Che condicene Se sulla tua pensiera Lo condivido Però Guardando la realtà Dei fatti È chiaro Che se non vogliono Chiudere baracche Burattini Settimana prossima Devono anche un po' Adattarsi A queste cose Sarebbe stato interessante Magari portare avanti Le due idee Contemporaneamente Quindi fai una cosa Più di rinnovo Del brand Di rinserimento Di personaggi All'interno Delle pubblicazioni Per stare dietro Al cinema Contemporaneamente Porti avanti Magari una serie Più Incentrata Sulla qualità Completamente distaccata Da quell'universo narrativo Per quello che stava dicendo Prima Il buon cap C'era Artemis Che aveva scritto Per seguire la storia Di Batman Di seguire Cinque testate Contemporaneamente E' vero E' vero E' vero No Lasciamola Io vorrei un attimo Demonizzare Il fumetto americano Oh Sentiamo Vai Stiamo parlando anche Fumetto o i publisher C'era No 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 Proprio E' anche la fruizione Dello spillato Che in realtà Secondo me C'è molta disinformazione Su questo Si tende a dire spesso Eh no Perché leggere americano E' molto più costoso Di leggere manga Ora Secondo me Non è del tutto vero Nel senso Se voi volete leggerti Poppiamo una serie Molto classica Tutto Naruto Che sono 72 volumi Non contiamo L'aumento dei prezzi Che ci sta in questo momento Quindi Naruto Sono arrivati a 5,50 Facciamo il prezzo classico Tu per riguardo 72 volumi di Naruto Ti fai Ti spendi più o meno Trecento Trento Trecento Venti Trecento Quarante euro In so più o meno Salve Eccolo Siamo in due Se voi invece Vi andate a recuperare Vi faccio un esempio stupido Gli ultimi 5 anni Editoriali Della cosmologia di Si Ne spendete Appena 250 Per dare un contesto Porca miseria Non è vero Che il fumetto americano Costa di più Semplicemente Lo spillato Tu lo vedi Con meno pagine Che costa 5 euro E dici Minchia Costa di più Però E' tutto molto diverso Soprattutto la panini Che ha portato Una qualità Nella carta Regà Che è completamente Quale di testa E godi Quando sfogli Spilla di panini Della DC Quindi della Marvel Non so perché No Però Quelli della DC Sono veramente tanta roba Come mai Come mai sa cosa Forse perché la DC L'ha impresa da poco Quindi hanno un altro team Che se no Non lo so Deve far vedere Quanto loro Hanno Hanno una tipografia diversa Per Non è che devono far vedere Quanto loro sono migliori Della Poi C'è un'altra cosa Un altro pregio Per chi fa in Italia Questo prodotto Nostro spillato Rispetto a quello Che si trova in Europa O anche in America Stesso È uno spillato Meraviglioso Ma ragazzi C'è in America Allora La DC La cartigenica Sì sì ma non solo La DC Ha un grande pregio E un grande difetto Ovvero Se tu segui tutto Segui tutte le testate Che attualmente sono sei In realtà Quelle principali Che sono anche così tante Capisci Molte più cose Di quante dovesti capire Se segui che sono solo Batman Però In realtà Non è così Difficile Starti da uno spillato Così impossibile Fare certi recuperi Quindi Insomma Non c'è solo il manga Ecco A livello di Di lettura Diciamo che Io sono d'accordissimo Con il discorso Che ha fatto Cap Calcolate che in America Ragazzi Uno spillato Che costa più o meno Tra i 4 e i 5 dollari E ha 32 pagine Di cui la metà Non per modo dire La metà Sono pubblicità Ah In più Il foglio Ti vedi la mano Senza contare Che noi abbiamo Un'editoria Che noi abbiamo Un'editoria Le cose che loro Non hanno Ne abbiamo Le pre E le post fazioni Che purtroppo Nessuno legge Nei fumetti Per qualche motivo Ma in realtà Ti danno Un resoconto Magari a volte Ti dicono Guarda Prima di leggere Questa storia Leggi di prima Quest'altra Quindi non è così Dispersivo Il fumetto americano E che le persone Non si approcciano E ne parlano Come se lo conoscessero Quando in realtà Non lo conoscono Purtroppo Anzi Appunto Il discorso Che ha fatto prima Cap Secondo me È giustissimo Però Rimanendo anche In tua piccola domanda Il discorso del cinema Porta anche un altro Un'altra cosa Che è sbagliata Io ho una fumetteria E ce l'ho da Prima che ci fosse La quarantena Ok E c'ho un botto di gente Viene in negozio A dirmi C'è il fumetto Di Civil War E quando tu gli dici Sì ma guarda Che non c'entra nulla Con il film Lui il fumetto Non lo compra Fa cacare Rispetto alla storia Del fumetto Mannaggia loro Però vabbè Lasciamo perdere L'MCU No no Comunque Non potevano farlo Io Spezzo una lancia A favore dell'MCU Ragazzi Non poteva essere minimamente Era impossibile farlo Cos'è quella roba Ciucuzzo Questo è Uno spillato Dei Titans Che comprai L'ultima volta Che andai in New York E effettivamente È più spessa La copertina Di tutto il fumetto No 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 La copertina non esiste La copertina è esattamente Come le altre pagine E forse questa è anche In qualità più decente Rispetto ad altre cose Che ho visto Anche perché c'è Starfire Non molto vestita Ma quello Ma no Cicciuzzo Ma quindi è proprio Carta proprio Leggera Leggera Sì sì Leggerissima È come se Te ne dimentichi Corriere dello sport Ma perché Li fanno così Quando facevano Gli inserti a fumetti Per risparmiare Per risparmiare Tutto qua Vabbè Degrado rischi al No Cicciuzzo rischi al Banno del canale Vabbè No Degrado Tranquillo Tranquillo Comunque ciao Bromao Benvenuto Io non so quanti di voi Qua leggano manga A me capita con Molte serie Che non voglio nominare Perché mi pare giusto Che io leggo E mi rimane inchiosto Sul pollice Non mi è mai successo A me sì Era successo Me lo ricordo Ma un certo ventesimo secolo Ragazzo Una roba del genere Quello No ma veramente Gli errori editoriali Allora Di recente Io ho visto L'errore Ventesimo secolo Ragazzo Ventesimo secolo Ragazzo Sì sì 20 century boys Fullmetal Ultimis Il 18 Era sbagliato 20 century boys C'erano almeno 2-3 volumi Che erano sbagliati L'11 di Dragon Ball Di Dragon Ball Cioè Star Comics Quante volte hai stampato Dragon Ball Nella tua vita Possibile Che quando fai L'ultimate perfect Sarcazzo Con il cartonato La fascetta La sovraccopertina Riesci anche a sbagliare I volumi a stampare Ma porca Ma io so anche Di pagine invertite Tipo Che ti auto-spoilerano Quello che stai leggendo E può capitare Perché la Black Edition Da noi ha le pagine specchiate Cosa? Ma quello perché Ma quello perché La Black Edition Quello perché La Black Edition Comunque era Era nata Come raccolta Dei volumi sottiletta Dell'epoca Che erano specchiati Quando è uscito Perché il concetto Di manga in Italia Non era Continualmente comprensibile No 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 Aspetta Non intendo lettura All'italiana Ha proprio le pagine specchiate No? Cioè Il disegno così No ragazzi Quello per forza Il problema è che Questo porta Che più avanti Nella storia Più o meno Dal ventesimo volume in poi C'è proprio dei baluni Che non si capiscono Non si capisce chi parla No! E per me Per me Un'edizione Che aggiustasse Questa roba Che non costasse 50 euro La potevano fare Gli raccontiamo Quella più eclatante Gli ultimi tempi Di Superman Di Superman? Dai vai vai Che è successo? No vabbè Allora Voglio bene a panini comics Però Salutiamo Però Momento storico Leggermente Un certo evento Che è probabilmente Uno tra gli eventi Più Importanti Che hanno influenzato La storia del fumetto Punto americano Sia la morte di Superman Ok Che ha compiuto Trent'anni No Che trent'anni Aspetta Morte di Superman Nera Quanto ha fatto Vic Trento Aspetta Aspetta C'è un Mammo di ragazzi Morte di Superman Sia la morte di Superman 1993 1992 92 Quindi a trent'anni Lo sconso Anni di comics Annunciò Poi se chiamo L'edizione è meravigliosa Un mega omnibus Con tutto quanto dentro E uno speciale Con l'autografo Dell'autore Da piccolette Per una firma Bellissimo Infatti lo comprei subito Spesi la follia così Ma autografo vero O stampa? Sì sì No 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 Autografate davvero Ah ok Immaginati Che tu apri L'omnibus Spendi quei soldi E La pagina La space page Forse tra le più iconiche Della storia del fumetto americano Dove Superman muore Tra piccolette Dopo che si è sacrificato Per abbattere Dooms del compagnia bella Meraviglioso Con Lois Che dice tranquillo Ce l'hai fatta Ci hai salvato Era completamente Sballata No Cioè La cosa La cosa più importante Cioè Che io Io non potevo crederci Andai in fumetteria Dicendo Oh Cioè Che è sta storia Cioè Che è una cosa in giro Poi Quello che ha fatto Rapanini è stato incredibile Per riprendersi Cioè Allora Hanno stampato Uno spillato Con le stesse dappone E l'hanno ficcato Col cellophane Dentro all'Ombibu Una roba brutta Che non si potevano Non si potevano permettere Di ritirare Tutte le Ombibu Ma era tipo L'Ombibu Costava già tipo Solo l'Ombibu 110-130 euro Un mattone Meraviglioso È meraviglioso No no Era bella grossa Ma sta cosa È imbarazzante E poi ci penso Domani ho un contenuto Su questo Lo ho già preparato Mi sono pure dimenticato Però Fa molto ridere Sta cosa Ma è imbarazzantissimo Cioè No dai Ma poi è la cosa Di mettere Ma ce ne sono tantissime Basta anche vedere Ultimamente Fullmetal Alchemist Che era il dodicesimo Numero Che era il diciottesimo Il diciottesimo numero Infatti Lì sono andato in fumetteria Io non so cosa è successo Semplicemente Io sono andato in fumetteria Ho detto Al titolare Simone sono qui Per prendere il fumetto Lì mi fa Allora ti do questo 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 è fullmetal Alchemist Non te la do Perché? Perché? Perché Se ne abbiamo quali Dobbiamo rimandare indietro A Panini Perché sono tutti sbagliati Ho detto Ma che cazzo Non so cosa abbia quel numero Non so cosa abbia quel numero Ah non lo sai? Voi lo sapete ragazzi? Allora Mancano le pagine Cosa? Mancano le pagine? Ma ragazzi Ma io non ci posso credere Ma cosa cazzo sta succedendo? Ma succede più spesso Di quanto si pensi Quindi vedi Noi ci lamentiamo Dei videogiochi fatti male Ragazzi Ma guardate questi A questi mancano le pagine Ma vi rendete conto? No però Finché poi L'editore fa mia colpa E ti ritira E ti dà le cose Amen Sì anche Anche i CD Projekt Ha fatto mia colpa Perdona capo È la futura che fai Comunque Non fai un danno economico Ma un danno d'immagine È un danno d'immagine gigante Tu pensa a questo Ritorniamo al discorso Dall'Ion Comics Se ne sbattiamo le palle Compre Questo andava avanti Naturalmente Però è Questo Questo come tanti altri È vero Almeno i giochi Li pacciano Dice Bromao È vero È vero Almeno i giochi Li pacciano E invece questi No Devono metterti Lo spillatino Dentro all'edizione Da mille milioni È letteralmente È letteralmente Una paccia Meno male che andiamo In una fumetteria seria Cicciuzzo Dice De Grado Vabbè Ok Meno male Io aggiungo un insight Dal lato videogioco Sotto quell'aspetto Per riguardo la domanda Legata a serie Cinema C'è un discorso Da fare secondo me Il Quello che sta succedendo Con la Marvel È tutto già calcolato Da tantissimo tempo Non è una roba Per cui gli editori Ora stanno rincorrendo Il fatto che Effettivamente Un film Per caso Ha fatto successo Il film ha fatto successo Perché Doveva fare successo Perché ci è stato investito Talmente tanto Che a un certo punto Quel film Doveva fare successo Certo Quel film Oddio Tutta quella serie Per cui Adesso sappiamo già Che cosa uscirà Nel 2030 Sostanzialmente Esatto Ma è anche 40 Perché con gli ultimi rimandi Mi sa che Io sapevo che Fino al 2028 Avevano scritto sceneggiature Poi non lo so Com'è andata Vabbè E tenete presente Che abbiamo Perso Una cosa come Due anni Con il covid In mezzo Quindi Stiamo presente anche questo Ora Così era poi Il ritardo Quello di Blade Che ha posticipato tutto Se non ricordo male Sì ma adesso Hanno posticipato tutto Perché si sono rotti il cazzo Comunque andiamo avanti Infatti questo Che Alla fine Gli altri medium Connessi E In effetti Quello del fumetto Era connesso A quello del cinema Perché Cioè Il Il prodotto di punta Erano i film Non era il fumetto Per cui Alla fine Tutti gli altri Che sono i videogiochi Connessi Che sono le serie stesse Che sono I fumetti In realtà Gli editori con le ristampe Stanno rincorrendo Quella che è Una scelta specifica Che è stata fatta Da Marvel Nell'andare A realizzare Quei film Questo che vuol dire Vuol dire Che Ovunque Secondo me Non è tanto Il fatto che Stanno uscendo Quei film Quindi c'è Una Non lo so Un Un interesse Maggiore Nuovo Verso Quei fumetti Eccetera Eccetera Il fatto è che Quell'interesse Volevano crearlo E quindi Di fatto Hanno creato Quello Cioè È l'esatto opposto Cioè Si Volevano creare Quell'interesse E quindi Quell'interesse Lo hanno fatto nascere Io posso aggiungere Una cosa Prego No Se è finito il discorso Se no Penso di sì No figurati Dico Questa stessa cosa La stanno facendo Anche con i videogiochi Appunto Identica Con le serie Ora sto recuperando Le serie Marvel Negli ultimi dieci anni Perché Ho aspettato che finissero Tutto il vecchio blocco E mi sto recuperando Tutti Beh un po' come hanno fatto Con Non l'avrei mai fatto se Non avessero Agganciato il mio interesse Con i film Quindi È normale Non credo che questo Stia dando Maggiore futuro Al fumetto in sé O al videogioco in sé O al medium in sé Cioè Questa è un'operazione Commerciale Dedicata espressamente A quelle ristampe A quei videogiochi A quelle serie A quelle eccetera eccetera Non è che Ok mi sono interessato di quello Quindi vado a comprarmi gli altri Non è Per forza collegata A questa cosa Magari succederà Beh succede secondo me Sai Tipo non so Vederti film al cinema Di Supereroi X Dici Ma quasi quasi Mi vado a prendere il fumetto Di quel supereroi Perché voglio vedere come fa Il supereroi però Non è detto che poi ne prendo altri Sì Non è detto Sì certo certo Però magari loro contano anche su questo No Cioè Contano sul fatto che magari Una cosa Fa fruttare anche L'altra E quindi fai comunque andare avanti In industria E fai andare avanti tutto quanto Ma appunto come Come stavo citando prima The Last of Us No è uscita la serie tv Di The Last of Us E in contemporanea Con la chiusura Dell'uscita Della serie Di The Last of Us Hanno provato a buttare fuori La versione PC del gioco Che sappiamo essere tutti Comunque Victor No Prego Volevo dire Che questo discorso È molto giusto Ma secondo me Loro hanno avuto anche Un po' Uno sbaglio di calcolo Soprattutto durante il periodo Civil War Perché il film Cioè il cinema Nasce per pubblicizzare il fumetto Ai tempi Questo appara Inizio MCU Diciamo Ma poi in realtà È diventato Un'industria a sé E quando c'è Quando c'è stata All New Marvel Now Che era 2016 Perché fu in contemporanea Ovviamente prima di Marvel Perché il cinema Sembrava totalmente cagare Che questa cosa Non è mai successa A livello fumettistico Hanno dato a molti personaggi Hanno cercato di dare A molti personaggi Il volto più simile A quello degli attori In realtà in quel periodo Le vendite Marvel Calarono A livello fumettistico E anche non poco Mi pare che Fu il periodo in cui Fantastici 4 Chiusero come testata E poi adesso Ha avverto da poco Da poco Lì però Lì guarda Su Fantastici 4 Chiusero non per la questione Lì Chiusero perché All'allora Editor Sebuschi Di Di Marvel Comics Decise Visto il fallimento Del reboot Nel 2017 Di Fantastici 4 Non essendo di licenza Marvel Studios Ancora i Fantastici 4 Per la questione di ritti Di chiudere La testata cartacea Per non fare Dagni ai personaggi Sì sì Esatto Che successe Anche a Bruce Banner Che non chiuse Hulk Ma arriva un altro Hulk Che adesso non ricordo mai il nome E E quel periodo capirono Che effettivamente Chi leggeva La maggior parte Dei lettori di fumetti Non erano interessati al cinema E viceversa Infatti la maggior parte Soprattutto in Italia Dei fan MCU In realtà Non approccia davvero Al fumetto Ma si recupera Ecco un must have Ma si recupera Il must have Civil War E poi Ma tra l'altro Questa cosa È esattamente L'opposto Di quello che è capitato Dal punto di vista Del gioco invece Cioè nel senso che I lettori dei fumetti Si lamentavano Che i personaggi Erano troppo simili Agli attori Mentre dal punto di vista Di gaming Quando hanno fatto Tirare fuori Invece i videogiochi Che erano appunto Che ne so Per esempio La cosa che è stata Più scatenante È stata con Marvel Avengers Della Square Enix Che poi il gioco Che si è uscito Ha fatto cacare Però con un altro discorso E una critica Che veniva fatta Di più Era che i personaggi Non fossero uguali Agli attori dei film Ed è una critica Che poi Questa cosa È una critica del cazzo È una critica del cazzo Certamente Sono d'accordo No partiamo dal dire Che forse la gente Non ha capito Che comunque I volti degli attori Hanno un costo Sì esatto Paghi una licenza A quell'attore Paghi un diritto D'immagine Quindi Già che quelli Di Square Enix Hanno dovuto pagare Comunque Oltre allo sviluppo Tutte le licenze Dei Della serie Delle serie Dei pagare pure i volti Come? Devi pagare anche i volti Certo Certo Poi devi pagare anche i volti Degli attori Ciao Cioè Avevi 500 milioni Di dollari Di budget 499 Li dedicavi solo Alle licenze Perché poi comunque Non è che stiamo parlando Di attori Sconosciuti O Di seconda fascia Comunque stavamo parlando Di attori Che in quel momento Pagalo Robert Downey Jr. Per fare il gioco Esatto Non il top qualitativo Ma il top di richiesta Di Certo Cioè probabilmente Forse L'attore più richiesto In quel momento Dopo loro Cioè prima di loro Era solo Di Caprio Ma sì È vero Forse prima sì Forse prima di Caprio Poi Danny Jr. Scala Johansson Cioè Downey Jr. Se non avesse fatto Iron Man Probabilmente sarebbe ancora sotto un ponte In questo momento Però Se quelle licenze Le avessero comprate dieci anni fa Esatto Con due bruscolini Il volto di Danny Jr. Ce l'avevano Invece L'hanno comprate dopo E quindi c'è stato un po' Un problema Che in realtà È una critica del cazzo Anche per un altro verso Cioè nel senso È viva la profondità della critica Se stai a pensare Sì 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 Non parliamo di critica Critica Ma parliamo della reazione Dei giocatori in generale Che c'è stata Vabbè comunque Anche per il pubblico dico Benvenuto alla profondità Vai a guardarti quello No guarda Non c'è la faccia bella Non me lo gioco Vabbè comunque c'era anche Il buon Bromao In chat che diceva Beh il problema di Marvel's Avengers Non era solo Che non somigliavano A quelli dei film È che sembrava Una versione discount Vabbè sì È vero anche questo Allora C'è da dire che i modelli Erano particolarmente brutti Perché poi guardavi in faccia E dicevi Ok quella lì è vedova nera Non è Scarra e Johansson Però probabilmente È la versione vedova nera Che trovavo nelle bustine Dell'idol Quando faceva L'uovo di Pasqua Quello tarocco L'uovo di Pasqua Esatto Della giochi penosi Però infatti Come ricordava Sempre Bromao Questa cosa Non è avvenuta Poi con quando uscì Effettivamente Il gioco dei Guardiani della Galassia Che nonostante fossero Completamente diversi Da qualsiasi cosa Il gioco è uscito Talmente bello Che la gente ha detto Sti cazzi Va bene così E grazie a Quando sono un prodotto Di qualità Poi certe cose Non vengono qui chieste Ah beh sì Quello è vero Poi secondo me È anche una questione di brand Perché Guardiani della Galassia Magari È meno conosciuto Di Avengers È meno forte Rispetto Avengers E quindi Avengers magari Ha raggiunto Un pubblico Più vasto Che è la prima cosa Che ha notato È stato Perché è una Ha soriglia Non ho messo Di junior Non lo compro E robe del genere Secondo me non è quello Secondo me è che Si sono proprio distaccati Ah Ok Mentre Nel gioco Il Marvel's Avengers Era tarocco Cioè si vedeva proprio Che era La stessa cosa fatta male Cioè Non era una Ok Prendo un mio take Io sono Marvel's Avengers Potrei fare una puntata Ma non posso dire No no Perché sennò Ovviamente poi Non lo so Però ho lavorato Tutta quanta la cosa In Italia L'evento a Lucca Se qualcuno stava a Lucca La stato Quella Di Capitano America L'ho fatta io Quella là Ma eri proprio tu No? Ero io Ero io Ero io Tutto bronzato E sei stato Cinque giorni Lì Fermo così Cinque giorni Onora a te Onora a te Non mi hanno fatto Mettere la ciotolina Per i soldi Non mi hanno fatto fare Eh vabbè Usavi lo scudo Sì Posso fare il riassunto Vai 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 Io perché voglio bene Una persona Non so che fine Abbiamo fatto Scott Amos Ai tempi Era il creative designer Di Crystal Dynamics Paravamo del gioco Che faceva così Guardatemi Io gli dicevo Queste crediche Faceva così Quella era Un uomo Che era E io lo guardavo E dicevo Questo è proprio pronto A un fallimento Loro già sapevano Già sapevano Mamma mia Ma proprio Ma guarda C'era un'aria di Andiamo tipo come sto L'armata Branca Leone Andiamo a perdere soldi E c'era C'era da dire Che io mi ricordo Nella fase di pre-lancio Alla Gamescom Ma anche Soprattutto All'E3 Quando Fecero Mostrarono il gioco Tra l'altro Noi eravamo proprio All'E3 Quando uscì La prima volta Che faccio vedere Un gameplay trailer Era All'E3 2018 Avevano fatto Una roba Avevano fatto Una roba gigante All'E3 Ragazzi Avevano proprio Allestito Uno spazio Che sembrava L'intro del gioco Perché nell'intro Del gioco Spoiler Tanto non ci giocherà Mai nessuno Praticamente Praticamente C'è questa sorta Di party Questa festa A tema Avengers Dove c'è Dove c'è Miss Marvel Quella che poi diventerà Miss Marvel Kamala Khan Che è lì Partecipa A questa festa E all'interno Delle tre Avevano messo Tutte le teche Con I vestiti Dei personaggi Poi c'erano Le statue Dei personaggi Avevano riprodotto Una parte Che poi si vedeva Anche all'interno Del gioco E poi ti facevano Vedere il gioco In azione Eccetera Ci avevano messo Talmente tanti Di quei paccari Che era Dicevi Vabbè Lo stand Square Enix In generale Quell'anno Era grande Era gigante Era la presentazione Di Final Fantasy 7 Remake E ci avevano fatto Uno spazio Che era doppio Rispetto a quello Della Marvel Con tutta la riproduzione Del maco reactor Della scirra Però vabbè Mi ricordo anche L'orologio Quanto costava L'orologio Di Final Fantasy C'era un orologio Soprì 2000 C'era un orologio Che costava Tipo una cifra Infinita Di Final Fantasy 7 E remake Bellissimo Che uno dice Boh Una cifra Spropostata No Aspetta un attimo Però guarda Considera che L'alta orologeria Comunque ha Dei prezzi Veramente Ma non mi ricordo Di che marca fosse Cioè se era Legato a qualche Marchio famoso Però era Una cifra Assurda Una cifra Completamente assurda Jacopo e Coe Andiamo a diluire Nemmeno su Marvel Snap sono uguali Al film Però non si lamenta Nessuno Vabbè Ma lì è diverso Lì usano proprio No no Usano proprio Gli artwork veri Dei vari fumetti O cosa del genere Tranne qualcosa Che invece no È fatto anche Da altri artisti Ma lì è proprio Una direzione Completamente diversa Secondo me Comunque Piccolo Kevin It's your time Another Another one Another one Il filone di prima Sulla domanda Di che cosa È per voi Il fumetto Io voglio arrivare Con questa Conseguente domanda Che più che domanda È portarvi alla riflessione Di una cosa Secondo voi Come si possono collegare Anche attraverso Le vostre esperienze Con il fumetto Come si può collegare Il mondo dei fumetti A videogiochi Io non intendo Soltanto nel Proponiamo Un gioco Dedicato Al personaggio Del fumetto Ma anche in altre forme Questo anche perché È una riflessione Che mi ha fatto fare L'articolo Ripeto la domanda Fai fine il discorso Te lo ripeto Cicciuzzo Di Manuel Roberto Sì Di Sofocenza Critica Che adesso vi linko qua Che semplicemente Andava a riflettere Sulle varie sfaccettature Della connessione Tra videogioco E fumetto E appunto Mi ha fatto riflettere Abbastanza Questa cosa Volevo riproporla Anche in diretta Ossia Cicciuzzo Il collegamento Tra videogioco E fumetto In che altra forma Ci può essere Oltre alla riproposizione Di Un personaggio A videogioco Amunque Ad essere il gioco Di Batman Victor Mi chiamate Attenzione Interrogazione Secondo me Si potrebbe fare Una roba Ma rimettendo Proprio Un fumetto All'interno Di un videogioco Mi vengono in mente Un po' Le note da leggere Nei vari videogiochi Sotto Nei survival horror No? Mentre in un certo senso Marei pagine fumettistiche All'interno Dello stesso fumetto Succedeva Il gioco di Deadpool Per PS3 Una roba del genere Se non sbaglio Ok Sì E ci stava Tipo proprio Un fumetto di Deadpool All'interno Del gioco di Deadpool Ed era E' veramente una figata O lo stesso stile del gioco Con tutti i balone Tutto Però secondo me Proprio il trasferimento massimo Che poi è quello che fa la saga Arkham E' riproporre per bene La scrittura dei personaggi Quindi scrivere quei personaggi Come dovrebbero essere scritti E dargli una crescita No? Perché io credo Che se tu mi scrivi un personaggio Che di base è Molto così a caso Bello, forte e intelligente Tu me lo trasponi E me lo fai Brutebole e stupido Tu non stai dando Un'automigione Tu hai fatto un altro personaggio Che è quello che succede Purtroppo secondo me La maggior parte dei casi Quando invece bisogna proprio Trasportare quel personaggio E tu puoi dargli comunque Una tua impronta Anche senza cambiare il senso Di quello che ti dovrebbe Trasmettere quel personaggio Chiaro È stato preciso Damaso? Credo che il punto Credo che il punto Della domanda sia Non tanto la trasposizione Quanto Come creare L'elemento fumetto All'interno di un videogioco O in che modi Questa cosa si può fare E può dare vantaggi Può dare qualcosa Di nuovo Di particolare All'interno del gioco E ti volevo prendere Due esempi Solo che per uno Devo chiedere alla regia Di far vedere qualcosina Certo Mi dica Mi dica Un video Praticamente è impossibile Un video? Se vuoi sì Va benissimo Dica dica Se prendi Volevo citare Framed Per dirne uno Che è un gioco Nato per mobile E che è arrivato Su pc Pochi anni dopo Tra l'altro Di Framed 1 Lo stesso Kojima Ricorsi e ricorsi Dei discorsi Disse che era Il Il videogioco Più interessante Che aveva giocato Quell'anno Una roba del genere Quando uscì per mobile È quello che devi mettere In ordine Le vignette Giusto? Bravo Più che metterle in ordine Devi Fare in modo Che avvengano delle cose E per farlo Devi fare in modo Che i personaggi All'interno del gioco Percorrano Le Ecco Qua Appunto sta Credo Facendo vedere Puoi tranquillamente Andare avanti Se vuoi Ok In una zona Un po' più avanzata Del gioco Questo gioco Ha tutti gli effetti Ecco Sostanzialmente Ma c'è cassa di figata Bello Penso che Lo faccia capire da solo In realtà Ovviamente tu lo percorri Nel normale modo Da sinistra verso destra All'alto verso il basso Il problema qual è? Che a seconda di come sono disposte Le I frame I frame del fumetto Succederanno Succederanno cose diverse Ah E qui ecco Faccio Esatto Cioè tornando al discorso Che hai fatto prima Della sequenza Di immagini Esatto Quello che dicevo prima Quante scene Allora che cosa fa? Sposta sostanzialmente Le cose In modo tale che Il personaggio Ecco Loro gli stanno per sparare Quindi il personaggio Possa prendere il tavolo E usarlo come Come riparo Oddio Ma è bellissima Sta cosa E questa cosa È stata Trasposta in tutto Il fumetto Cioè in tutto il gioco Poi a tutti gli effetti Cioè tu il fumetto Cioè lo crei proprio Il fumetto Cioè la storia Te la stai creando Tu Esatto Mamma mia E altro Più che altro È proprio quello Prendere il fumetto E farlo diventare Quello che è Sequenza di elementi Che poi qua Sono ovviamente animati Ma insomma Ah giusto Perché l'uccello Ha distratto Il poliziotto Non gli ha sparato bene E lui si è salvato Ma è bellissima Sta cosa Ma è bellissima Fingata Eh Vic Mi sa che ti devi giocare Su Giocomobile Adesso ti tocca Io ci proverò C'è su PC C'è su PC Ah c'è su PC A posto Sei salvo Sei salvo Ok La cosa interessante È che è stato previsto Per Cioè A seconda dell'ordine In cui tu metti Chiaro che c'è Un ordine preciso Che è La risoluzione Della schermata E ti permette Di andare avanti Con la storia Però Non è che se tu Sbagli l'ordine Il gioco ti dice No non è questo L'ordine Fine Te lo fa capire Tramite Delle azioni Che portano poi A un risultato negativo E quindi La cosa fine È quella Che comunque La costruzione Della 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 sequenza Ti porta comunque A un risultato Che non è quello aspettato E E quindi niente Vedi appunto Il fallimento Ogni volta Cosa sbagli Sostanzialmente Esatto È particolare Perché Non è comune Ok Non è per niente Comune Infatti adesso Lui è scivolato No vabbè Geniale Beh quindi Devi usare un altro sistema Ovviamente Beh qua Si mette la sperimentare Il secondo esempio Che volevo fare Era Florence Florence A questo mobile Anche Sì perché giustamente Richiedono meno Sforzi Tecnici Chiaramente Bellino Bello questo Ecco C'è Anche candidato Best Indy Mi pare È stato Probabile È un anno Di uscita Probabile Ti chiederò Di andare Leggermente avanti Non so quanto Ma ce ne possiamo Rendere conto Vabbè In realtà Puoi già Scorrere un po Per dare Un'idea Per avere Un'idea Ecco Lui gioca Con questo E Anche qua Di nuovo Il gameplay È collegato Al fatto Che è un fumetto Ah ok Lo si intende Per cui Quello che succede Lungo il gioco E poi è brevissimo Si parla di 30 40 minuti Niente di serio E ogni volta Atto per atto Situazione per situazione Capitolo per capitolo Ti chiede di interagire Con Con i frame Ancora Il discorso delle sequenze Appunto Oddio E c'è una scena Bellissima Secondo me Quello che ti chiedo Di recuperare Non so come Devi scorrere leggermente C'è un Un momento In cui I due personaggi Stanno litigando E ci sono dei balloon Stanno litigando Ok Aspetta Non c'è da qua Ecco qua Forse Forse questa parte qui Perfetto Stanno parlando Vedo che parlano Credo che basti Semplicemente fare Vedere questa cosa Per Ah pure il tipo di Ah C'è il fumetto Usa dei linguaggi Usa dei segni Specifici Che conosciamo Ecco Nel fare questa roba Allora a un certo punto Iniziano a litigare E si infatti Le loro espressioni Stanno cambiando E tu in base A come metti Quando litigano Cambiano i balloon Eh si è vero È vero Cambia anche la forma Degli incastri Del balloon Cambia tutto No vabbè Ora Adesso Inizio a osservare Questa cosa Secondo me Questa è proprio Qualcosa di straordinario Ecco Come stanno giocando Chi scoprasta l'altro Esatto Ah quindi il primo Che finisce Dei due È quello che Tra virgolette Vince la discussione No Vabbè Geniale Geniale questa cosa qua Ci sta Ci sta Sono delle cose bellissime Secondo me Mamma mia Ah adesso Chi si gira È perché Deve chiedere scusa All'altro Ah Infatti Prima era girata La tipa Sì 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 Geniale sta cosa Geniale Questo è un vero e proprio Fumetto interattivo Cioè In tutto e per tutto Cioè Forse questo qua Così come anche L'altro di prima Uniscono perfettamente I due I due medium Infatti hanno fatto pace Cucinano Sono felici e contenti Ma che ficata Ma che ficata I colori La scelta stilistica Su tutte cose che alla fine Noi pensiamo Vabbè ok Voglio il gioco Iper realistico Blah 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 No Il fumetto si può permettere Di giocare Come vuole Lo dico da tanto tempo Io vorrei un gioco Sul fumetto Sul Scusa Sul fumetto Sul film animato Di Into the spider verse Ah e mamma mia Ma per quello che hanno fatto A livello grafico C'è una roba del genere È da orgasmo All'interno di un videogioco Un po' anche allagato Con gli stivali 2 Alla fine Quel misto 2D 3D Ha un Secondo me Un comparto grafico Pazzesco E quel misto 2D 3D Che è veramente Stupendo Poi spider verse Into spider verse Hanno preso 6 stili Di fumetto Diversi E li hanno messi insieme Tutti a schermo Contemporaneamente Cioè Cosa stai facendo Il punto è quello Che il fumetto Permette di fare quello Non è La rappresentazione Iper realistica Di qualcosa È un Io racconto una cosa Con uno stile artistico E metto quello stile artistico E lo sto usando Per Per trasferire Un mood Per trasferire Un'emozione Scusa Da quel punto di vista Non c'era quel gioco Di spider man Per PS3 Dove praticamente C'erano 4 spider man E ognuno Non solo Non solo Non solo Non c'è Age of time È uscito dopo Forse Shard Dimension Shattered Dimension Si chiamava così In una cosa del genere Comunque Stai fatto che c'era Spider man noir 2099 L'amazing Sì E non mi ricordo E non mi ricordo Chi Ultimate forse E a ogni A ogni Spider man Non solo Corrispondeva Un diverso Stile artistico Ma corrispondeva Proprio Un diverso tipo Di gameplay Quindi Sì A seconda della sequenza In cui ti trovavi Perché poi Il discorso era C'era questo Se non ricordo male La storia Era che c'era questo Multiverso Dove ogni Spider man era Connesso all'altro E praticamente Ogni Avanzamento Di trama All'interno Di una Delle quattro storie Andava poi Influenzare Quello che accadeva Negli altri mondi Una roba Del vero Verissimo Verissimo E quindi Da quel punto di vista Credo che Cioè nel senso Quello che dici tu Nella riproposizione Ma da web Poi Chiaramente C'era qualcosa Può ridere qualcosa Dal punto di vista Poi della qualità Del gioco in sé Però quello che dici tu Come Trasposizione Del Dei diversi stili Di Into the Spider All'interno Di un gioco Forse possiamo Ricondurlo a questo Forse Non l'avevo giocato Ammetto Vedi Qua c'è Spider man noir Questo era Vabbè Questo qua Era quello Venomizzato E questo qua E quello 2099 Sì Tra l'altro Questo gioco Aveva Avuto dei grossi Problemi All'epoca Vai avanti Vai avanti Dimmi Scusa Pensa Questa cosa Degli diversi stili Non in una Trasposizione Da Spider man Ma In una creazione Di qualcosa Da zero Cosa di tutto Un po' Poi il discorso Diceva Kevin È interessante Questo gioco È stato usato Come esempio Per No We Home No 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 In realtà Tra l'altro Qua c'è la storia Tutta quanta La storia Del fatto Del multiverso Di Spider man Con Madame Web Eccetera eccetera Che forse Nei film Riprenderanno Forse Forse Sony Lo fa Ma se lo fa Vierrà fuori Sicuramente Una mezza schifezza Comunque Sì Era basato Su questa cosa qua Era basato Su questa cosa qua Poi quell'anti Venom Totalmente A caso Alla fine Sono cose Completamente fuori Comunque ragazzi Io direi che A dire il vero È capcomic Eh no esatto Ma poverino Io scusate ragazzi Ho scritto a Simone Sono opuso Ma tanto comunque Siamo arrivati Alla fine della trasmissione Sono passate le due ore Sono opuso È stata La mia soglia Di stacchezza Il nostro cup Tra l'altro Oggi ha avuto Una giornata travagliata Forse anche per quello Comunque Io direi che Siamo arrivati comunque Alla fine della trasmissione Perché abbiamo fatto Le nostre due Orette di trasmissione Ma io prima di Staccare del tutto Dobbiamo chiudere La trasmissione Come sempre Caro piccolo Kevin Però dai una Una sola Una sola E la facciamo scegliere A Victor Perché Victor Non ne sa nulla Di questa cosa Non so niente Sì quindi Victor devi scegliere Un numero Dimmi soltanto un numero Un numero? Sì adesso ti dirà Il piccolo Kevin Da che numero A che numero Ok Adesso ce la fa Piccolo Kevin Dal 16 al 107 Dal 16 al 107 Dimmi un numero 27 27 Attenzione Attenzione Sentiamo La meraviglia Siamo pronti? Prego Dica dica Ancora Cepu 1 Allora Oddio Sono le barzolette di Toc Sì prego 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 Vada vada Avevamo capito I Tocchi del Piero Si presentano insieme All'esame del Cepu Ok L'esame dottore chiede loro Che scrisse la divina commedia Del Piero E dai Francesco Fammi un assist Che non lo so Esaminatore Su ragazzi Vi voglio aiutare E' molto facile La scritta quello Che ha il naso lungo Lungo Totti Ah oh Certo Pinocchio E con questo Completo gelo Io ringrazio Tutti gli ospiti Di oggi Ringrazio Frequenza Critica Ringrazio Il buon Capcomics Ringrazio Victor Che purtroppo Si è subito Questo momento Di cringe Incredibile Grazie cicciuzzo Grazie Anzi no Piccolo Kevin Ci vediamo Alla prossima puntata Di GX Chatting Grazie a voi E ci vediamo Anche già a domani Pomeriggio Per una chiacchierata Insieme Grazie di tutto E alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ed ora va in onda Il secondo tempo Del film 2022 I sopravvissuti